Siamo con l'ingegnere Enzo Cappellini, responsabile per quanto riguarda ITT Italia del progetto di ampliamento nell'ambito ZES qui a Termoli. Che auspici, che programmi con un investimento importante da 70 milioni di euro? Se consideriamo il momento geopolitico che abbiamo dovuto affrontare, quindi davanti a una guerra, il problema dell'energia e delle materie prime, arrivare a elaborare un investimento di questa portata è stato veramente molto difficile anche per noi. E soprattutto lo è stato scegliere in quale paese farlo, visto che comunque ITT ha altre country in giro per l'Europa. La scelta su Termoli ci riempie d'orgoglio per due motivi. Uno perché è una grande opportunità di creare Termoli come centro di sviluppo per il futuro di questa nuova linea che si chiamerà High Performance. E il secondo aspetto è legato al fatto che puntiamo a creare una fabbrica sostenibile. In parallelo stiamo prevedendo di sottoporre all'amministrazione uno sviluppo ulteriore per un parco fotovoltaico di circa 7 MW. Il nostro sogno è di rendere questa fabbrica indipendente, autonoma anche a livello di energia. La ricaduta in termini occupazionali preventivata? Il primo step, perché qui stiamo parlando dell'High Performance di un edificio, prevede una ricaduta di circa 60 unità. Unità anche abbastanza qualificate, perché proprio per la natura di questo investimento, ripeto, questo High Performance prevede la realizzazione delle pastiglie più performanti, che riguardano un segmento specifico del mercato, prevederà anche delle persone altamente qualificate. È stato decisivo l'apporto dei contributi previsti nell'ambito ZES? È stato decisivo sì, anche se è stato molto più decisivo riuscire a capire che potevamo unire tre fattori. I contributi, uno spazio adeguato su cui sviluppare questa fabbrica e in generale un'amministrazione, una struttura pubblico e privato che hanno lavorato veramente in modo molto veloce. Un esempio abbastanza particolare per una multinazionale americana, che molte volte mi ha domandato ma realmente puoi pensare di iniziare i lavori in 7-8 mesi, perché questo dubbio è rimasto nella testa di molti per un lungo periodo. E quindi oggi siamo molto contenti di poter dare inizio ai lavori. Adesso aspetta a noi accelerare. Il cronoprogramma prevede di poter aprire questa fabbrica nel settembre-ottobre del 2024. Grazie. Prego.